Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sarebbe un piano di Matteo Renzi per dividere il PD e annientare, fare sparire il Movimento 5 Stelle. A parte che il Movimento 5 Stelle è finito un giorno il reddito di cittadinanza o comunque modificato, quando il centrodestra lo modificherà, gli darà un altro nome, sarà indirizzato veramente solo a chi ha bisogno, allora a quel punto il Movimento 5 Stelle ufficialmente non esisterà più come diceva Grillo, quando avrà esaurito la sua missione si dissolverà. Speriamo che si dissolva presto. E così arriva la partita al Quirinale e si parla ancora di Pierre Ferdinando Casini, che era immerso tra i primi candidati alla successione di Sergio Mattarella, quel signore che diceva che non si può votare, c'è Covidi. E così Matteo Salvini ha perso la sua occasione di diventare premier. Mattarella sarebbe determinato a rifiutare qualsiasi ipotesi di bis? Ma i pretendenti al trono sarebbero sempre Draghi, Cartabia e Silvio Berlusconi. Certo che se Silvio Berlusconi riuscisse sarebbe un'opera d'arte per la sua carriera, sarebbe incredibile se dovesse riuscire a diventare capo dello Stato. Difficile che un paese intriso di sinistra come l'Italia permetta a quello che hanno sempre definito il Cavaliere Nero di diventare Presidente della Repubblica. Vedremo. E poi c'è Casini, che era passato in secondo piano. Ma sarebbe assolutamente in corsa per il Colle. Lo era anche sette anni fa. Sponsorizzato da Angelino Alfano, ma beffato da Matteo Renzi, che tirava fuori dal cilindro Mattarella. Se voi guardate questo Matteo Renzi, alla fine gran parte delle cose le decide lui. Stavolta però Casini è proprio nei piani di Renzi. Politicamente il rapporto tra i due sembrerebbe essere buono, dato che Casini è entrato al Senato proprio grazie a Matteo Renzi, che fece candidare nel collegio non nominale a Bologna come esponente della lista civica popolare. Ci sono due sole controindicazioni. Si dovrà vedere se effettivamente Renzi riuscirà ancora a incidere, adesso che è fuori dal PD con un partito piccolino del 2%, e torna poi in ballo il fatto che il suo nome si è fatto troppo presto. Ma sul nome di Casini potrebbero coinvolgere molti deputati, perché potrebbe essere lanciato questo nuovo largo centro, o centro largo, che potrebbe comprendere anche la Lega Giorgettiana. Spaccare il PD e relegare i margini, il Movimento 5 Stelle. Beh, una Lega Giorgettiana cosa vuol dire? Una scissione nella Lega? A me Giorgetti non sembra proprio un leader politico, non me lo vedo proprio, lo vedo proprio, l'ho sempre visto, non so, come una persona che sbuffa, una persona un po' svogliata. Questa è l'idea che mi sono fatta di Giorgetti, magari mi spaglio, magari è una persona superattiva. Ma la Lega divisa in due, con scissione, potrebbe anche accadere, che Salvini volontariamente questa volta segue a Giorgetti al centro, ma la Lega non è un partito di centro, non potrà mai trovare essere accolta da Calenda, per esempio, che ha un bel 4%. Questo grande centro, che in realtà non esiste in Italia, dovrebbe comprendere, secondo le fantasie politiche di molti, Calenda, Renzi, Casini, l'Udc, e poi magari Forza Italia e la Lega. Ma alla fine non diventa un centro, diventerebbe di nuovo una sorta di centrodestra. Ma questo riuscirebbe, secondo il piano di alcuni, a isolare Fratelli d'Italia a destra, e isolare il Movimento 5 Stelle a sinistra. Il Movimento 5 Stelle potrebbe anche sparire, perché poi, non avendo più la paternità del reddito di cittadinanza, che verrebbe stravolto, cambiato il nome, eccetera, probabilmente sono prossimi all'estinzione. Mentre Fratelli d'Italia vorrebbero relegarla a destra, e far capire all'elettorato che quella è una destra impresentabile, mentre la Lega diventa, la Lega Giorgettiana diventerebbe una Lega presentabile. Beh, insomma, che la Lega, già nel nome Lega, che era quello della Lega Nord, è un partito separatista, che diventi un partito di centro Giorgettiano, la vedo un po' una fantasia politica un po' troppo fervida. Il fatto è questo, Matteo Salvini non lascerà mai la guida della Lega, che l'ha fondata lui. Questo nuovo soggetto, Lega Salvini Premier, lo dice anche nel nome, Salvini non si farà mai da parte, non sarà mai accettato da un centro, perché la Lega non è un partito di centro, e cercare di far passare la Lega, come la nuova Forza Italia, mi sembra troppo, per la sua storia, la storia da dove viene la Lega, il simbolo, i suoi politici, che vengono tutti dalla Lega bossiana, come fai a far passare la Lega come gli eredi di Forza Italia, la nuova Forza Italia? È un progetto ambizioso, ma non è realizzabile, perché gli italiani non identificheranno mai la Lega come la nuova Forza Italia, Forza Italia è Berlusconi, Berlusconi è Forza Italia, non c'è, non c'è un dopo Berlusconi, con Berlusconi finisce Forza Italia, dopo Berlusconi ci sarà un partito, un partito piccolo, un piccolo partito. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, e qui su YouTube c'è anche l'altro video, c'è l'altro canale che si chiama Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.